E ragazzi come va? Io sono FieriNiki e io sono Stef e questo ci chiama Roblox e siamo tornati su Roblox questa volta con un escape in cui dovremmo scappare da una scuola penso che lo vogliate fare un po' tutti quindi lo faremo noi al posto vostro soprattutto in questo periodo quindi questo sarà un video tutorial su come scappare da scuola con Fermi Non fatelo vi prego non fatelo Allora questo credo che sia il nostro insegnante l'hanno sistemato per bene gli altri alunni noi dobbiamo approfittare di questo momento per scappare dalla nostra classe Ma poverino lo lasciamo nel cestino E vabbè prima o poi riuscirà a uscire da solo no? Ma poverino non mi sembra molto capito messo bene Non ne ho idea allora lì ci sono dei professori che stanno parlando tra loro quindi di sicuro non dobbiamo farci vedere quindi andiamo in questa grata Siamo troppi non ci stiamo in questa grata Stiamo a scappare insieme ai consolini Aspetta Attenzione attenta attenta Aia aia mi stanno spingendo Allora calmi tutti E' troppo stretto Calmi calmi Andiamo Andiamo questa è la roba di Bidelli credo non ne ho idea ma penso di sì Penso che sia sì ripostiglio Ok Sì vabbè ma dobbiamo saltare nei secchielli minuscoli Dobbiamo trovare l'armadietto in cui passare giusto? Sì perché lui dice quale sarà l'armadietto Ok Prova a pensare in tutti fino a quando uno non funziona Ma che questo è di sopra cioè dici che è molto casuale Secondo me questo Questo è un colore diverso quindi è questo No Ok Mi sembra che stiamo passando attraverso E' uno di quelli in alto allora No? Per forza Sì ma li dobbiamo davvero controllare tutti? Cioè non la finiamo più qua rimaniamo due giorni Io la sto facendo Altro che fuga dalla scuola Ecco l'ha trovato il consolino Ok perfetto Questo Però andate Ok ok c'era il passaggio dietro Perfetto Perfetto Il passaggio segreto è incredibile Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Questa è una via di fuga preparata dagli alunni negli anni e negli anni Si hanno bucato dietro gli armadietti come in prigione Scavando Uguale Uguale Con le forchette della mensa scavano Basta Che poi diamo idee malsane Esatto Esatto può essere pericoloso Allora da qui dove finiremo? Attenzione Già No Stavo per dire Siamo nel cortile Perché ho visto del verde Ma questo non è per niente il cortile Direi di no Sono tipo delle tubature super arrugginite È stranissima Ma dai ma perché oggi sto morendo così tante volte? Non lo so Ci siamo invertiti la bravura Sì anche se È successo questo secondo me Probabilmente nel sonno Capito Io ho preso la tua bravura nel parkour E tu hai preso i miei errori Me l'hai rubata? Sì Senza permesso Almeno potevi pagarmi tipo una caramella Non lo so No quelle su tutte per me Allora Anche qui ci sono i tubi corretti I tubi sbagliati I miei consolini Ci hanno mostrato la strada giusta Sanno già tutto Cioè secondo me sono esperti Di fuga Di fuga Dalla scuola Perché incredibile che trovano tutto Non è la prima volta che lo fanno secondo me Anche secondo me non è la prima volta Eh sì 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 Salta le matite Salta le matite super giganti Oh mamma mia Sono difficilissimi da saltare Allora Oh Ci sei? No Sono morta in una matita Mi farei fare tutto da capo Oh no Ce la faccio Le matite sono troppo per me Concentrati Ok ti devi concentrare Ok Credo che sia un campo da basket E dobbiamo saltare tutte le palle Credo Io pensavo le dovessimo prendere a calci Dai era più logico Non era logico Non dai Sì invece Proprio per niente Qua c'è un oggetto non identificato Ti giuro Che lo sto guardando da dieci secondi E ancora non ho capito cosa dovrebbe essere Arrivo 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 Credo una gomma Quella per cancellare Però È proprio brutta Secondo è una gomma Forse Non lo so Aia Allora Allora non alla volta Su Che sennò qua si muore tutti Non ho cascato Che cosa è questa roba Non lo so Ma non ha senso È un libro È notato che è un libro Ma no dai Si muovono gli occhi però Eh? Si muovono gli occhi Oh ma a me è super inquietante Voglio salire nella sua lingua Ci devo riuscire Aspetta No non puoi Non puoi Sicura? È trasparente Sì appena ha visto un consolino Caderci in mezzo Allora arrivederci il libro Ci vediamo un altro giorno È un libro malefico Si guarda all'occhio Però carina l'idea del libro Si gira a 360 gradi Oh mamma mia Mi sta ancora fissando È super inquietante Non vogliamo leggere Lasciaci in pace Non vogliamo studiare Questa è la passeggiata Per tornare a casa Siamo finalmente usciti Dalla scuola La stiamo lasciando lì Alle spalle Cioè il livello si chiama Proprio Long Walk Home Cioè la lunga strada Per tornare a casa Credo Cioè devi solo camminare Così l'ultimo livello Davvero? Ancora ricordo Tutte le volte In cui dovevo tornare A casa a piedi No anch'io Non si dimentica Non si dimentica A scuola Cioè Che poi era anche Abbastanza lontana Però pur di tenermi Sto lì del pullman Me lo facevo a piedi Capito? Così avevo qualche soldino In più per me E quindi mi tenevo I soldi della barata Del pullman E camminavo Quindi sì Mi ricordo a quei tempi La stella di Ferinichi E finalmente possiamo dormire E guardarci la televisione C'era solo questa Ma che è? Sì una casetta Dove riposarsi No dicevo quest'arma Ah sì Non funziona Non funziona È bagata Vabbè sì Ci possiamo riposare Dopo la faticaccia Di essere scappati Da una scuola Ci possiamo guardare Un bel programma tv Qualcosa del genere Esatto Andiamo a giocarci Secondo escape? Assolutamente sì Dobbiamo scappare Da questo cantiere Sei pronta? Sì Che bellini che siamo vestiti Corri 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 Ma da che parte? Ah qui Ah boh Non lo so Anche io pensavo da lì Ah ok Ok C'è il mento armato Ok Mi raccomando Non rimanere lì Che se no ci rimane a vita Però io vorrei mettere le nostre impronte Sarebbe figo no? Eh direi proprio di sì Sarebbe divertente Cioè non salta il personaggio Ma che problemi ha in questi In questi mattoni? Non salta Mi dispiace Ti dicevo dovremmo far fare le impronte Signor Maialino e Capitan Jeff Sai perché tu quando vedi il cemento armato Vedi sempre le impronte degli uccellini Quindi quelle degli animaletti Le dovremmo lasciare Così rimarranno lì Nella storia del cantiere È vero È un'ottima idea Iniziamo ad andare in alto Non mi piace questa cosa Stiamo scalando un palazzo Che ancora non è stato costruito Non è una buona idea Lo sai? No perché secondo me Potrebbe rollare Da un momento all'altro Quindi non è una buona idea Qua c'è qualcuno che sta lavorando Buongiorno Le possiamo dare una mano? Le serve qualcosa? Salve le buttiamo giù il cemento? Vado? Eh Non posso Buttali tutti i mattoni giù Buttali Lascialo in pace su Qua ci sono i bulloni Non so bene perché Ma va bene Facciamo parkour tra i bulloni E poi saliamo qui Tra dei bulloni volanti Oddio si sciva Ma quanto in alto vogliamo andare? Ci stiamo arrivando Già Vabbè sì Dobbiamo scappare Da tutta Mi ha fatto ridere A questo tipo Che sta lavorando I yet to work Poverina Poverina Arrabbiatissima Non gli piace Non gli piace proprio No non gli piace Scappa con noi Vieni dai Vieni vieni Troverei la felicità Troverei il non è vero Aiuto È tutto strano Sto posto È molto strano Ci sono cose incandescenti Da schivare Sì bulloni incandescenti Stranissimo Vabbè Vabbè Adesso qua Mamma mia Guarda che livello di originalità È uno dei migliori che abbiamo fatto Oh questo sì Praticamente ci sono adesso delle piattaforme Tenute con delle catene E devi saltare costantemente No Adesso il basso e scendere Che è successo? Allora La dovete smettere di saltarmi in testa Accidenti Perché mi spingete di sotto? Mai saltare in testa Ferenichi Non lo so Perché ogni volta mi devono spingere di sotto Perché si divertono e fanno bene Hanno portato la teniti di minecraft Ah è uguale Per far esplodere la miniera Dobbiamo scendere qua nella miniera Ma non dobbiamo prendere il carrello Ma no dai Pensavo come minecraft Dovessimo prendere il carrello Purtroppo no Invece no Purtroppo ci tocca andare a piedi E ovviamente c'è la lava Guarda credo che non abbiamo mai fatto un escape Senza lava Probabilmente ai creatori piace molto la lava Sì Quindi si divertono A fare la lava C'è il classico gioco Quello che fai finta Che per terra c'è la lava Devi saltare in tutte le cose in casa Eh esatto A meno qua lo fai realmente Più o meno Esatto Allora Questo ponte instabile Da Non l'avrei mai detto Sembrava un ponte così sicuro Guarda Ah no Guarda sì Se non ce lo dicevi tu Ci camminerei a occhi chiusi Guarda Vero Eh sì Una cosittale è sicurezza E infatti Caschi Attenta all'ultimo Siamo scesi dal cantiere Siamo passati da una miniera E siamo tornati al cantiere Infatti non capisco Non mi è molto chiara Questa fuga Ok Va bene Continuiamo Ci sono tanti attrezzi Super pericolosi qua Salta bene Fatto fatto Salta bene Che pericoloso Qui c'è la nostra serpentina preferita Che tanto amiamo Io non le sopporto Lo so Soprattutto quando Steph Ti salta davanti Cioè mi stavi buttando giù Hai visto? Sì cara Sei una persona terribile Ti voglio bene anche io E diventa ancora più fine Non è possibile Aiuto Mamma mia Che rischio Guarda in alto Credo che dobbiamo arrivare Fino allì su E ho appena visto una persona cascare Ma scusa Allora lì ci sono dei palazzi Io direi di scappare Se andiamo direttamente via dal cantiere Fai attenzione È difficile Devi fare attenzione Sì Non è per niente semplice Di scalarli Perché hanno una forma tutta particolare Esatto Non è difficile Lo so Non sono da sottovalutare Ma ce la possiamo fare Ormai siamo degli esperti E dobbiamo scappare Da questo cantiere È davvero pericolosissimo Ma è impossibile Questo è impossibile Come fai? Ok Come? Ce l'ho fatta Inizio a salire le scale Per vedere cosa c'è dopo questo Un Ah Questo è un progetto È il progetto del Sì sono i progetti dei cantieri Però ti uccide Ah ok Perché in questo cantiere Tutto ti uccide Hai capito? Tutto È pericolosissimo Apri anche un pezzo di carta Ti uccide Esatto Non si sa perché Non si sa perché Credo che siamo vicini Ad arrivare alla massima altezza Di questo posto E spero quindi a scappare Perché non ne posso più Di saltare in questo cantiere E ora Ma è tutto altissimo Ecco qua No Anche io Non le spingono Capito? Ogni volta C'è un salto Uno alla volta Accidenti Uno alla volta Ok Ne ho buttato giù uno Manca l'altro Ormai Vai tu Ok è caduto No Sono caduto anche io Dobbiamo saltare questi birini Eh vabbè ma siamo sempre fin alto Sì ma guarda quanto sono stretti Sono già morto Allora Eh dai sono strettissimi Contiamo le morti in questo livello Una Duecentri Ok Ok Dai che ce la sto facendo Capito Capito Due Pensavo Allora se fai il salto laterale Per succedere di spingarli Cadi sotto Perché alla fine è troppo stretta la piattaforma E non ci stai Allora È stranissimo Ok Qui è proprio un puntino Vedi Allora questo è sicuramente l'escape più difficile Guarda eh No è troppo difficile No ma rispetto a tanti altri che abbiamo fatto È davvero troppo complicato Ufff Dai Devi essere super preciso Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta a tre morti È un incubo Ma sono I più difficili sono i tuoi primi in questa cosa dei birilli Sì 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 Quindi pensi che sia impossibile Ma in realtà sono solo i primi Secondo me di sopra è anche finito Quindi voglio Andare a darti la buona notizia nel caso Così Troverei la forza di saltare i birilli Sì Confermo È finito Alleluia È l'ultimo livello Ce la puoi fare Che bellina questa immagine Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito Direi che ci possiamo fermare per questo video Alleluia Speriamo che vi sia piaciuto l'oppio escape Credo che continueremo ogni tanto a farli Ma non tutte le settimane Perché boh Sinceramente stanno iniziando ad essere tutti uguali Anche gli escape Sul Roblox Dobbiamo trovare una soluzione con le mappe Scarseggiano Non stanno facendo mappe nuove Io non so perché da un mese a questa parte Non esce nessuna mappa nuova di Roblox Quando invece prima almeno Una volta alla settimana ne escivano due Anche tre a volte ne escivano Ci stanno mettendo in difficoltà a continuare il gioco Ma troveremo una soluzione in qualche modo Potete stare tranquilli Magari andremo a cercare nei meandri di Roblox A costo di fare le mappe più brutte in assoluto Ma magari troviamo qualche mappa sconosciuta Che ormai non gioca più nessuno Invece è ancora bella Anche Ci proveremo Almeno ci proveremo Bene che siete iscriviti Se siete giocati C'è da un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.